Nei giorni scorsi la comunicazione da parte del commissario tecnico Stefano Baldini all'amatoria atletica Serafini Sulmona della convocazione di Giulio Perpetua ai campionati del mondo allievi in programma in Ucraina dal 10 al 14 luglio. Il bravo atleta sulmonese prima di quest'evento internazionale si recherà a Moena in provincia di Trento per un raduno tecnico. La notizia della convocazione di Perpetua, la massima rassegna e ridata, ha fatto il giro di tutte le società italiane ed è stata colta con grande soddisfazione dall'ambiente sportivo sulmonese. Anche il neoassessore allo sport, Luciano Marinucci, ha inviato al talentuoso mezzofondista ovidiano le felicitazioni per un campionato da disputare alla grande portando in alto il nome di Sulmona. Per la storia dell'atletismo sulmonese Perpetuo è il decimo atleta che viene convocato nella nazionale italiana. Nella cronologia mondiale dei risultati, dopo il tempo di 5 minuti 53 secondi e 65 ottenuto lo scorso sabato al meeting nazionale di Modena, Perpetuo è balzato al nono posto nelle gradatorie internazionali, mentre in Europa è posizionato al primo. Tutto lascia sperare che ai mondiali il 17enne ovidiano, allenato dalla professoressa Annalise Knoll, possa entrare con merito nella finale prevista per martedì 12 luglio alle 19. Ci sarà comunque una grossa visibilità per Perpetuo. Infatti l'intera manifestazione che si svolgerà in Ucraina, ripetiamo, dal 10 al 14 luglio, sarà trasmessa in diretta sui canali di Rai Sport 1 ed Eurosport. Intanto la prestigiosa rivista Atletica Leggera, che ha una tiratura di 850.000 copie, ha dedicato al mezzo fondista sulmonese un'intera pagina nella quale campeggia la sua foto che evidenzia il titolo italiano conquistato ai campionati nazionali studenteschi di corsa campestre.